in questo tutorial vi faccio vedere in maniera molto semplice come sfruttare una funzione di youtube apparsa da qualche mese ma conosciuta da pochi e soprattutto non ancora sfruttata nella maniera più efficace si tratta della possibilità di indicizzare i video inserendo dei capitoli vedete la timeline di quest'anteprima appaiono dei segmenti adesso vi mostrerò come poter inserire i capitoli all'interno dei video sia quelli che andrete a caricare nuovi sia soprattutto a quelli che già avete caricato nelle vostre playlist andiamo a vedere come poter fare tutto questo eccoci all'interno di questo video esempio che io ho già indicizzato se facciamo partire il filmato e posizionando il cursore sopra alla timeline vedremo che appariranno dei titoli per ogni segmento ma chi dà questi titoli a questi segmenti noi entrando nella modifica video io già vi faccio vedere il video come è fatto successivamente vi mostro come farlo su uno che ancora non ha l'indicizzazione bisogna inserire nella descrizione innanzitutto 02.00 che è l'inizio del video e dargli un titolo subito sotto andiamo ad indicare il secondo capitolo con il suo titolo nella navigazione del video per chi può usufruirne vuole andare ad esempio a vedere direttamente che ne so la grigna in questo video non va altro che a cliccarci sopra e apparirà il segmento del video indicizzato che effettivamente volete vedere oppure più facilmente anche potete andare sopra alla timeline come visto prima questo è uno step molto molto semplice per poter fare il tutto adesso vi faccio vedere come questo video è già stato modificato e poi andiamo appunto a farlo su uno nuovo caricato da poco entrambi modifica video dove abbiamo tutta la descrizione vedete descrizione che è importante la descrizione in un video perché aiuta nell'indicizzazione della ricerca poi del vostro stesso video su youtube vedete io semplicemente ho creato questo scrivendo è un semplice testo io posso aggiungere caratteri così come i numeri questo è importante perché questo 02.00 è il messaggio di partenza di questa divisione dei capitoli se non mettiamo questa non abbiamo questa possibilità ok quindi adesso andiamo ad ad esempio in un altro video dove possiamo benissimo sfruttare questa indicizzazione che ancora non abbiamo ad esempio questo video sulla mostra dell'anno scorso vedete qua nella descrizione non c'è nulla noi aiutandoci da questa anteprima ok vediamo che metteremo a questo punto io scrivo sempre sommario indice quello che può essere fatto metto un 0 2 punti 00 e scrivo a caccia di mostre cacca e mono al music di lugano che è il titolo del video iniziale quando vedo che ad esempio voglio mettere l'indicizzazione per quello che riguarda lo stand up dell'inviata andiamo a mettere 0 30 secondi che è esattamente dove è apparso il messaggio all'inizio qui 30 secondi 31 ok 31 precisione e mettiamo stand up e poi possiamo scrivere pittura giapponese adesso non è importante ma sarà specifico nel vostro caso andiamo a vedere magari un altro punto che c'è il secondo intervento parlato eccoci qua ha preso 126 e quindi andiamo a mettere a capo conclusivo chiamiamolo ok non faccio nient'altro che salvare entrare nella visione del canale e io mi ritroverò i capitoli che ho indicizzato all'inizio qui e nella descrizione in modo da saltare già direttamente all'ultimo stand up per qualsiasi chiarimento scrivetemi pure nei commenti e sarò felice di mostrarvi nello specifico cosa fare in base alle vostre richieste